Musica Ben trovati con Mercati che fare. Questa mattina ho ricevuto la telefonata di un amico che mi chiedeva ma secondo te cosa succederà sui mercati finanziari? Io ho risposto a questa domanda con un'altra domanda. Gli ho chiesto se si ricordasse cosa fosse successo sui mercati finanziari il 24 giugno del 2016. Quanti di voi si ricordano questa data? Che cosa è successo? Potremmo rappresentarla con un punto interrogativo, questo momento molto particolare. Pensate, credo che parecchi di voi non sappiano, non ricordino cosa è successo. Eppure è stato un giorno in cui la Borsa italiana ha subito il tracollo più importante della sua storia nell'arco di una giornata sola. La Borsa ha perso il 12,34%. Forse ricordandovi quello che è successo dal punto di vista numerico state cominciando a ricordare che il 12,34% è stato perso in occasione di Brexit. Eppure non ci ricordiamo che cosa è successo. Allora mi sono chiesto, ho chiesto a questo amico che mi ha fatto la domanda che era riferito a questo contesto di mercato post-elettorale abbastanza particolare. Fra dieci anni ti ricorderai ancora di quello che sta succedendo oggi se io dovessi dirti cosa è successo il 30 maggio del 2019? Ebbene credo che i 1.500 miliardi che sono fermi sui conti correnti rappresentano veramente l'assurdo di questo periodo. perché poi noi dobbiamo abituarci a fare dei viaggi finanziari che non possono essere agganciati esclusivamente alla contingenza. E mi chiedo quale evento straordinario stiano aspettando questi 1.500 miliardi per ritrovare redditività. Di questo ne voglio parlare con Marco Barlassina che ci ha raggiunto questa sera qui a Mercati che fare. Marco Barlassina, direttore di Forbes.it. Grazie Marco per essere tornato qui a Mercati che fare. Tu ricordavi cosa fosse accaduto quel giorno del 23 giugno? Lo ricordavo perché ero stato qui da te proprio la settimana successiva, quindi c'era molta agitazione, oserei quasi dire panico, però mi ricordo che insieme avevamo invitato i nostri telespettatori a non farsi prendere dal panico perché la storia insegnava che dopo un così grave capitombolo di solito c'è un ritorno alla normalità e così sappiamo che è stato, anche se poi c'è tanto tempo, c'è ancora tanta strada da recuperare, come sappiamo. Ecco, però di Brexit, di analisi di scenari nuovi che neanche immaginiamo magari, positivi o negativi, anche in negativo ci sono le previsioni. Pensiamo per esempio all'elezione di Trump. Si diceva che l'elezione di Trump avrebbe aperto una crisi nel mercato americano, invece ha aperto uno, forse il più grosso rally del mercato americano da quando esiste. Assolutamente, è uno dei più lunghi, quantomeno, dal punto di vista temporale, perché comunque è iniziato nel 2009, siamo ormai a quasi nove anni di fase rialzista, tant'è che gli Stati Uniti, Wall Street, ha recuperato pienamente quanto aveva perso... Nella fase finale del 2018? No, ma anche da Lehman Brothers. Anche da Lehman Brothers a oggi, quindi ha recuperato totalmente. All'Italia, tu pensa, destino italiano, poi magari ne parliamo meglio, manca ancora più del 100% per ritornare, quindi se era dimezzata, manca ancora tutto questo spazio da recuperare. Ma quando si investe, anzi quando non si investe, perché abbiamo visto ci sono 1.500 miliardi fermi in questo paese, che cosa si aspetta? Che cosa si aspettano i cittadini che hanno sul conto corrente questi soldi per uscire dal momento d'impasse? Allora, sicuramente si aspetta un ritorno di fiducia, perché questa è la grande chiave di volta. Sicuramente c'è stato un processo di disillusione per tutti coloro che erano investiti nel 2008, che erano investiti nel 2011, perché poi la crisi del debito che l'Italia ha avuto, e gli Stati Uniti non l'hanno avuto, si potrebbe dire che l'Italia sta vivendo un decennio perso, da questo punto di vista. Qualcun altro dice che non siamo mai usciti dalla crisi, probabilmente c'è del vero, e quindi qualcuno è rimasto scottato, soprattutto l'investitore in borsa, che magari aveva fatto un investimento, come dire, speculativo, o comunque l'ha scommesso sul singolo titolo, sui tre titoli consigliati dall'amico, piuttosto che... Quindi, da un lato la scottatura, dall'altro l'attesa per un clima di fiducia che oggi, per tanti motivi, li conosciamo, si fa fatica a intravedere. Tu, Marco, hai parlato di decennio perso. Vediamo questo servizio che ha preparato per noi Sara Bergonzini, che va proprio nella direzione della nebbia che attanaglia questo paese ormai da dieci anni. In questo periodo capita, non di rado, di lamentarsi per una primavera che tarda ad arrivare. Eppure, sono più di dieci anni che il nostro paese fatica ad uscire dalla nebbia, e non si tratta soltanto di condizioni meteorologiche avverse. La prima nuvola che ha oscurato il cielo delle nostre certezze è stato il fallimento Lehman Brothers. La caduta di una delle più grandi banche d'affari americane ha provocato in tutto il mondo, anche in Italia, una crisi di fiducia dalla quale ancora non siamo usciti. Se guardiamo i dati di questo primo trimestre 2019, nonostante il PIL abbia segnato un più 0,2% rispetto al trimestre precedente, resta del 4,5% inferiore ai livelli raggiunti nel primo trimestre 2008. Ma se l'Italia è ancora zoppica, in Europa è già cominciata la rincorsa, e paesi come Svizzera, Germania, Francia e Spagna hanno già superato i livelli pre-crisi. A una crescita che oggi ancora non c'è come dovrebbe, si aggiunge la miopia dei risparmiatori italiani, che non spingono lo sguardo oltre il qui e ora, e non riescono a pianificare i loro investimenti secondo un'ottica di lungo periodo. Da un'indagine edemia, il concetto di futuro risulta associato ad un periodo inferiore ad un anno per due investitori su dieci. Per sei non va oltre i cinque anni, e solo per un investitore su dieci supera i dieci anni. Malati di presente e poco inclini alla diversificazione. La liquidità che stanzia sui conti correnti degli italiani ha superato i 1.500 miliardi di euro, mentre nei portafogli, secondo l'indagine Einaudi sul risparmio, nell'ultimo anno la quota del patrimonio investita in azioni è stata inferiore al 10% per oltre il 40% degli intervistati. È vero che dietro le nubi splende sempre il sole, ma in finanza c'è bisogno che i risparmiatori siano aiutati a intravedere la luce fuori dal tunnel, anche quando sembra spenta. Siamo ancora in un tunnel bello lungo, probabilmente, considerati anche i numeri della finanza nazionale, perché poi se guardiamo i conti pubblici qualche problemino ce lo dobbiamo porre. No, assolutamente. E gli investitori privati sicuramente se li pongono questi problemi. È difficile investire da privato in un paese che ha così tanti problemi che probabilmente domani o in un futuro potrebbero venire a chiedere il conto anche ai privati di questi problemi nazionali. E allora cosa succede? Che gli italiani... Ecco, tu hai fatto un passaggio così semplice, semplice, potrebbero venire a chiedere il conto ai privati. Adesso non volevo mettere paura a nessuno. Però è un passaggio che è un cognome patrimoniale, quello che dicevi tu. Sì, purtroppo sì, ogni tanto riaffiora, devo dire. È sempre uno spettro che sta all'orizzonte, ma appunto non è il caso di diffondere nessun tipo di paura. che è quantomeno... Anche perché io sono convinto che finché non ci sarà o non ci dovesse essere un governo tecnico, nessun politico firmerebbe mai per una situazione del genere, no? No, assolutamente, assolutamente. Del resto, le due patrimoniali più importanti degli ultimi anni le hanno fatte due governi tecnici. Amato è la prima e la seconda fondamentalmente è stata fatta da Monti. Sì, però dal mio punto di vista c'è anche un altro punto che è importante. La patrimoniale, siamo all'estremo. Però la nazione potrebbe venirti a chiamare in causa come privato nel senso che se tu hai la coscienza di vivere in un paese con dei problemi rilevanti dal punto di vista del debito sei convinto di dover far fronte con il tuo risparmio privato quindi mettendolo da parte, nemmeno investendolo perché la sfiducia è tale che fatichi. Ora, se hai visto tanto quanta piccola parte abbiano ad esempio gli investimenti azionari in Italia, no? E questo forse è frutto proprio della scarsa fiducia anche nel sistema quindi nel sistema imprenditoriale che invece sappiamo ha delle eccellenze. Però è stato un percorso di cultura che non si è mai fatto in questo paese nei confronti dell'investimento diretto verso il mercato delle imprese e non solo del mercato delle imprese italiane in senso lato, no? Perché nonostante che l'articolo 47 della Costituzione italiana dica che il risparmio dovrebbe essere in qualche modo orientato anche verso le imprese produttive del paese e non solo, questa roba in Italia non è mai stata fatta. Anche le tassazioni, in passato addirittura in maniera molto più ampia era quasi demonizzato l'investimento azionario, anche le tassazioni oggi 12,50 sui titoli di Stato, 26% sui fondi piuttosto che sugli investimenti diretti in borsa ci dicono che c'è una concorrenza sleale anche da parte dello Stato nei confronti dell'economia reale. C'è sicuramente una concorrenza sleale, c'è una tradizione che vuole gli italiani più vicini all'investimento in titoli di Stato comunque obbligazionario rispetto all'azionario, in tutto ciò negli ultimi anni oltre all'aumento della tassazione sulle rendite che hai ricordato tu, perché in precedenza era più bassa, sotto il 26%, c'è stata anche l'imposizione sulle transazioni, sulle azioni, la famosa top in tax di cui si è parlato qualche anno fa. Ma questa roba qui è come dire, siccome tu investi in azioni potenzialmente sei magari o più ricco, o più evoluto, quindi paghi di più. Quando poi invece se guardiamo ai portafogli dei risparmiatori anche di piccolo cabotaggio, definiamoli così, di paesi del nord Europa, ci rendiamo conto che quei paesi crescono dal punto di vista delle rendite patrimoniali proprio grazie al fatto che anche i piccoli distribuiscono in maniera molto importante sui fondi e sui mercati azionari. E non a caso, richiamando la parola di poco fa, all'epoca si era parlato di mini patrimoniale, proprio una patrimoniale a carico di chi investiva i propri risparmi. Questo onestamente c'è anche un po' di ingiustizia, no? Di incoerenza poi per certi versi. Esattamente, sì. Poi c'è un'incoerenza secondo me anche dal punto di vista degli investitori. Ovviamente chi investe in borsa, dal piccolo al più grande, quindi anche all'investitore istituzionale, guarda una cosa sola, alle prospettive, che possono essere o le prospettive di un paese, o le prospettive delle aziende, o tutte e due le cose insieme. Ovviamente l'Italia magari può avere, l'abbiamo visto, il più 0,2, quando invece molti altri paesi europei stanno correndo molto più velocemente, può avere prospettive inferiori, meno toniche rispetto ad altri paesi, però oggi la realtà è che qualunque investitore può investire in tutto il mondo, o meglio deve investire in tutto il mondo, ci sono tanti mezzi per farlo, il risparmio lo permette, lo si può fare però anche privatamente, grazie a Intran. Quindi oggi veramente comporre un patrimonio, un portafoglio, scusa, un portafoglio diversificato, che vada a prendere anche l'occasione di sviluppo, di accelerazione di economie distanti da noi. Effettivamente si può fare, e forse è veramente arrivato il momento di iniziare a farlo. Lo fanno i piccoli, lo fanno anche i grandi, anzi i grandissimi. Il caso del fondo sovrano norvegese, oltre mille miliardi in gestione, andiamo a guardare le percentuali di investimento, comunque il 70% viene investito in strutture che vanno verso i mercati diversificati azionari, poi una parte sull'obbligazionario e una piccolissima parte in liquidità. Esattamente l'opposto, e qui stiamo parlando di mille miliardi, di quello che fa il portafoglio medio degli italiani. Esatto, tra l'altro questa notizia la ricordo, e perché se ne è parlato molto? Perché ha realizzato delle grandissime performance negli ultimi tre mesi. Stiamo parlando di un fondo enorme, come dicevi tu. Forse uno dei più grandi al mondo, se non il più grande al mondo. Sì, appunto hanno reinvestito i proventi dal petrolio in molte altre attività, negli ultimi tre mesi quindi sono riusciti a fare una performance eccezionale grazie alla strategia che dicevi tu. Tra l'altro, parlando sempre di grandi investitori e di quello che invece i piccoli possono fare, i grandi hanno la possibilità di avere uffici studi, analisti che riescono a capire quando, più o meno, quando può essere il momento giusto di entrare su un'attività finanziaria e quando è il momento per uscirne. I piccoli forse, anzi, non ce l'hanno questa possibilità o lo fanno a loro pericolo, rischio e pericolo. Cosa possono fare però? C'è una soluzione, esiste, per smussare gli angoli delle salite e delle discese dei mercati e la soluzione si chiama PAC. Non è una novità, naturalmente, no? È uno strumento che esiste da decenni. Negli ultimi anni è andato un po' fuori moda, onestamente. Sta ritornando e credo che effettivamente, magari lo spieghiamo anche brevemente in cosa consiste, quindi di investire delle quote regolari ogni mese in modo da acquistare un titolo o più titoli quando sono in basso, quando risalgono e via dicendo. Diciamo che il PAC rappresenta un metodo ed è quel metodo che manca a molti risparmiatori per far fronte alle salite e alle discese. Siamo in tema di Giro d'Italia. Sai, in salita si fa una fatica bestiale, ma anche in discesa, se non hai la preparazione, poi vediamo immagini di cadute spaventose. Per cui è meglio pedalare sempre in pianura. Si fa meno fatica, si fa più veloci. E il PAC, ecco, stando nella metafora, consente di stare sempre in pianura, comunque nel tempo accumulando un capitale con il rispettivo anche montante, potremmo dire. E quindi è un metodo, come dicevi tu, per intraprendere un percorso di investimento. Naturalmente stiamo parlando di azioni, non esistono solo le azioni nel portafoglio di una persona media, di un risparmiatore medio. Le azioni possono avere un peso sicuramente non superiore al 50%, solitamente viene inserito attorno al 20-30%, in realtà come quella italiana. Poi dipende anche dall'età della persona, perché funziona anche degli obiettivi di vita. Si arriva in dei momenti in cui uno deve cominciare a decumulare, magari a utilizzarlo, anche il risparmio. Perché poi si gestisce nel breve e non lo si prende mai. Ci sono tanti patrimoni che sono passati di mano da padre in figlio, da padre in nipote, senza che nessuno ne avesse mai toccati e magari sono rimasti lì in liquidità per decine e decine d'anni. Sì, diciamo che anche qui la statistica ci dà una mano, e soprattutto la storia, non solo la statistica, perché gli americani, grazie per fortuna, è dal 1870 che stanno raccogliendo dati sull'andamento dei mercati finanziari. Quando si dice molto spesso, investendo in azioni, ti assicuri per il lungo periodo una crescita comunque sostenibile, oggi tra l'altro è una parola che va molto di moda, la sostenibilità, lo dicono sulla base di quello che hanno visto dal 1870 a oggi, quindi stiamo parlando di 150 anni. Direi che è un periodo sufficientemente lungo, copre più di una vita, quasi due vite. Quindi se non ci vogliamo fidare delle nostre intuizioni, la storia comunque è una buona maestra. Però oggi stiamo vivendo un altro momento di incertezza, soprattutto per quanto riguarda il mercato italiano. Allora forse quello che dicevi tu un attimo fa, cerchè di pedalare sempre in pianura, perché l'altimetria con il metodo del piano d'accumulo in qualche modo tendo ad abbassarla, però hai bisogno di un altro aspetto per legarti ad un'altimetria che ti aiuti a correre nel tempo, la diversificazione. Perché se oggi siamo tanto preoccupati dell'Italia, tu dicevi prima ci sono paesi, abbiamo visto i dati, il PIL, tutto il resto, che continuano a correre. Certo, da un lato la diversificazione proprio geografica, anche questa non è una novità, in tutte le composizioni di portafoglio si è sempre fatto una distinzione, non solo tra asset class, quindi tra azione, obbligazione, liquidità, e asset alternativi, ma anche a livello geografico. Oggi tra l'altro sta subentrando anche una tendenza più recente, possiamo dire, che comunque è interessante, alla quale si può affidare almeno una parte del portafoglio, che è quella dei grandi trend, qualcuno li chiama megatrend. Effettivamente rappresentano la possibilità di andare a investire in quei trend che stanno sconvolgendo la nostra vita. E perché non pensare che se stanno sconvolgendo la nostra vita possono avere le potenzialità per essere anche dei grandi investimenti, mi riferisco ad esempio alla robotica, piuttosto che appunto alla sostenibilità, piuttosto che alle smart city, piuttosto che a tutto il fenomeno della digitalizzazione, che ormai va a coprire tantissime fette della nostra esistenza, dalla salute allo svago. Quindi oggi esistono tanti prodotti declinati in questo modo, c'è la possibilità, secondo me, di creare, di prendere una scommessa guidata, anche da esperti, perché non possiamo essere noi da soli, andare a scoprire che in Giappone c'è una società che sta creando un robot capace di fare operazioni chirurgiche da solo. Ho visto un telegiornale, quindi dobbiamo stare attenti anche noi, realizzato da un robot in studio, ma era talmente tanto simile ad un uomo, solo la voce era un po' metallica. E magari anche meglio di un uomo. Era più preciso, tra l'altro non faceva papere come capita a noi, Marco, qualche volta. Quindi questo è il futuro, per quanto per alcuni versi può spaventare, bisogna riuscire anche a cavalcarlo, no? Questo tipo di prodotti finanziari permette di fare, tra virgolette, una scommessa su ciò che veramente sarà il futuro di tutti quanti. C'è un altro aspetto che magari deve prestare, a cui dobbiamo prestare tanta attenzione, è quello della demografia. I temi demografici legati alla quarta età, addirittura alla quinta età, dice qualcun altro, perché sappiamo che la persona più longeva d'Italia oggi ha 116 anni. Immagino, essendo una donna che abbia preso la pensione a 60, sono ben 56 anni che questa signora, a cui auguriamo la migliore delle salute, altri 100 anni di vita, prende la pensione. Questo ci dovrebbe far aprire un mondo davanti a noi, no? No, sicuramente, speriamo che abbia investito da giovane, a quest'ora avrà una bellissima capitalizzazione di tutti gli interessi che ha ricevuto, tra l'altro. Però hai centrato un punto, perché questo della demografia è un trend che da un lato deprime il nostro paese, perché sappiamo, l'Italia, tra tutti i problemi che abbiamo citato prima, ne ha uno grandissimo, che è quello della produttività del lavoro. Però il secondo è quello demografico, insomma, da noi non si cresce la popolazione, l'unica parte della popolazione che cresce è quella, quella che va verso l'anzialità. Siamo il paese più anziano d'Europa, con una media di 45 anni, no? E questo è un grosso problema, perché se noi pensiamo anche in termini di mercato, prima parlavamo di decennio perso, un altro paese che ha avuto un decennio perso è stato il Giappone, che ha tante caratteristiche simili. Ormai è più di un decennio, ormai è un ventennio abbondante perso, no? Nel frattempo è passata la storia come decennio. Anche loro hanno lo stesso problema, un debito molto alto, come l'Italia, e un aspetto demografico molto simile al nostro, con una curva che si alza molto più... Infatti i giapponesi sono appena più vecchi di noi, sono intorno ai 47 anni di media, per cui un paio d'anni in più. Esattamente. Fa specie vedere che in Africa l'età media in questo momento, nel continente africano, è di 18 anni. C'è il rischio che andremo a prenderli noi fra poco, invece che ributtarli dall'altra parte. Questo è un tema naturalmente molto delicato, credo che poi ci sono degli equilibri che si vanno a smussare, anche in questo caso, però sicuramente una popolazione attiva, una popolazione giovane, dà anche l'opportunità a un paese di crescere. E quando si parlava prima di potenzialità, di visioni su quello che può fare un paese, i mercati tengono in considerazione anche questo. E il cosiddetto embedded value, cioè il valore potenziale di crescita di un mercato azionale o di un'azienda, noi lo vediamo anche in un mercato o in un paese come l'Italia. Assolutamente. Marco, ti ringrazio per averci accompagnato in questa simpatica e utile chiacchierata. L'appuntamento con Mercati che fare torna la prossima settimana, noi ci vediamo alla prossima occasione. Grazie ancora. Grazie a te.